Siamo in compagnia di Sandro Pokesci, allenatore dell'Unicusano Fondi, per questa avventura naturalmente per un ritorno nell'allora Serie C2 con l'Orbi, adesso Lega Pro, un campionato che si prospetta veramente nel modo migliore. Sì, campionato difficile, non mi aspettavo questa nostra partenza, frutto del lavoro, sacrificio soprattutto di ragazzi e della grande organizzazione che l'Unicusano ci ha messo a disposizione a Fondi, dove con tutto rispetto abbiamo allestito un'ottima squadra. Prerogativa per il Murigno naturalmente sempre più importante è quella di fare spettacolo al di là del risultato. Quando ci si riesce sempre, noi pensiamo sempre di essere proprio positivi, di avere una squadra che sappia sempre dettare il proprio gioco, poi a volte ci si riesce, a volte no. Vedi la partita ieri sera a Matera, dove è stata una partita difficile, dominata dal Matera, ma noi ci siamo difesi alla grande e anche facendo qualche puntatina in avanti dove potremmo sorprendere, ma sarebbe stato troppo perché il Matera ha fatto una grandissima partita. Un girone C sempre più impegnativa, ma soprattutto davanti a platee sicuramente importanti di qualità e di numeri. Siamo andati a Catania, a Foggia, a Juve Stabia. Parliamo di società importante. Anche ieri a Matera era uno stadio tutto pieno, lì vivono di calcio. Per noi, per me, è una grande esperienza, soprattutto perché di confronti con allenatori vincenti, con allenatori che hanno fatto anche la Serie B, con quasi tutti gli allenatori che hanno fatto i professionisti, con quasi tutti gli allenatori che sono stati i calciatori. Per me è un grande vanto che sono partito dai dilettanti, sia come giocatore che come allenatore. Ritrovarmi di fronte a questi mostri sagri e giocarmela alla pari mi riempie soddisfazione. Diciamo pure che è un contesto che ti senti a tuo agio, sappiamo il tuo carattere, però fino adesso, e speriamo nel prosieguo, sarai sempre abbastanza corretto. No, è molto più facile. Io ho sempre detto che più si sale, più è facile, perché c'è più gente competente, ci sono più regole che vanno rispettate. Nei dilettanti c'è sempre una cambogia. Quando vai nei professionisti e stai a un passo dalla Serie B e dalla Serie A, gli errori sono sempre i minimi perché trovi gli arbitri più bravi, i giocatori più bravi. E quindi chi ha la passione e la voglia come me, gli rimane più facile. L'Unicusano Fondi, naturalmente, ha anche un impegno quello di rappresentare l'Università Cusano. Noi tutti i nostri iscritti, tutti i nostri ragazzi della Berete, degli allievi dei giovanissimi nazionali, sono tutti ragazzi che seguiamo anche sotto l'aspetto dello studio. E la nostra proprietà vuole proprio che hanno un percorso universitario, poi che sia all'Università Nicolò Cusano o ad altre parole importanti, perché i nostri specialisti, psicologi, dicono che chi studia rende anche molto di più nel calcio. Sandro, chiudiamo invece l'aspetto tecnico. Per quanto riguarda la tua rosa, è una squadra che fa girare i vari elementi oppure c'è una base ben sicura? C'è una base, però diciamo che ad oggi di 26 giocatori ne hanno giocati 24, quindi abbiamo giocato quasi tutti quanti. Ci tengo a precisare che molti sono giocatori che l'altro anno con me stavano in Serie D e qualche scommessa di qualche giovane che stiamo lanciando, tipo Pompei, tipo D'Angelo, che sono ragazzi guadalupi, che sono ragazzi del 95 e del 96, che sono sempre nella rosa e a volte giocano. Sei impegnato a guidare la prima squadra dell'Unicusano Fondi, però sappiamo quanto ci tieni anche a tutto il settore giovanile. L'Under 15 e la 17 la facciamo a Roma, abbiamo l'Accademia al campo della Roma 8 a Torbella Monaca, dove abbiamo 300 iscritti. Sta crescendo molto bene, il mio vanto è sia l'Under 15 che prima, l'Under 17 e seconda e la Beretti prima a punteggio pieno. Questo ci dà modo di essere molto orgogliosi del lavoro svolto dai vari responsabili del settore giovanile che ci hanno dato una grande mano con Dell'Uomo, Lo Sito e a Fondi, diciamo Mazzarella, che è responsabile coordinativo di tutta la scuola calcio e gli altri giocatori degli allievi, dei giovanissimi locali, che anche lì siamo nella prima posizione, col presidente Nicola Cialone, che è di Fondi e che è la bandiera storica di questa società. I coadiuvati dal grande presidente Stefano Ranucci, che da Roma coordina il tutto quanto. Dobbiamo dare per forza dei risultati al padron Bandecchi perché gli sforzi sono tanti. In un momento difficile dell'economia italiana, dove tante società sono in difficoltà, l'Unicusano Fondi veramente vediamo che ci sono settori giovanili abbandonati, settori giovanili vengono gestiti, autogestiti, genitori che pagano per andare in trasferta. E questo ringraziando l'Università Nicola Cusano con il suo sponso, noi questi problemi non li abbiamo, quindi ci riteniamo molto ma molto fortunati. Ecco, Sandra, per quanto riguarda questa premiazione, in collaborazione con il Comitato regionale Lazio, premieriamo dei giovani che sono particolarmente distinti l'anno scorso. Sono molto contento perché il futuro è giovane, sono contentissimo di questa iniziativa del Comitato, che è sempre molto attento. Mi ricordo quando io facevo l'eccellenza, noi eravamo l'unica regione che aveva sempre dei giovani in più, con un anno al di sotto, quindi era una programmazione. E poi ultimamente vediamo che nel Lazio, le squadre finaliste tra lievi e giovanissimi e juniores, il Lazio porta sempre in finale e vince parecchi titoli. Quindi questo è un grande lavoro fatto da Zarelli negli anni, che porta grandi risultati. E speriamo che noi con la nostra università, ma so che già padron Bandecchi, vuole mettere delle borse di studio proprio di dare al Comitato regionale per dare a quelle famiglie che hanno bisogno, quei ragazzi che magari per grandi motivi, che ha avuto dei problemi nella vita, nella famiglia, non può avere la possibilità di studiare. L'università sta pensando, il nostro padron Bandecchi sta pensando di dare delle borse di studio proprio al Comitato, che con la sua competenza possa aiutare quelle persone che sono state meno fortunate. Sandro, sei diventato bravo come allenatore, qualche tempo fa lo eri ancora più bravo, ma soprattutto sei diventato un ambasciatore di primo ordine proprio per l'università. Il Presidente Ranucci e il Dottor Bandecchi vogliono questo. Loro quando mi hanno preso mi hanno detto voi non devi più pensare a pochi esci, tu devi pensare che oggi rappresenti l'università e rappresenti il nostro messaggio, che è quello della ricerca scientifica. Quindi ti devi levare questa etichetta che hai, io mi sforzo, però ogni tanto esce fuori l'istinto che è in me e che però dobbiamo contenere perché chi mi ha dato questa opportunità è una persona vera, non come tanti, una persona che ha creduto nell'uomo pochi esci, non come tanti che hanno usato l'uomo pochi esci per poi buttarlo a mare con le solite farsità che li contraddistingue. Oggi vediamo che questi personaggi stanno uscendo fortunatamente nel calcio perché è gente che fa male al calcio, perché al calcio ci vuole gente seria, onesta, ma soprattutto leale. Tra uno squillo e l'altro abbiamo fatto questa bella intervista a 360 gradi, però noi siamo abituati ad averti anche in studio. Una promessa per quanto ci sarà possibile? Prima di Natale, prima di Natale faremo una gabbadina perché mi fa piacere, poi Reteoro è stata sempre una trasmissione che mi ha portato bene perché sono partito dalla prima categoria del Borghesiana, sono arrivato oggi in Lega Pro, quindi è una trasmissione anche se abbiamo avuto in passato degli scontri, però servono per temperare, per conoscersi e per fare. L'importante è che c'è sempre da tutte e due le parti la lealtà che quella per me è importantissima, che nessuno si deve mai dimenticare che gli uomini devono essere uomini con la U maiuscola. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a te, grazie.